che noi facciamo la pizzo ma voi dobbiamo vedere come funziona ma tu questo lo vendi la ripresa? no, è omaggio omaggio, omaggio Scopo Penso, se riconos只 insegnate YouTube, TV èγα Pass söyleye su YouTube Si sonate? Tele Passıs Ma c'è questo YouTube? Quattro? No, ancora... Tele Pass? Pascari, su ciò. se parche, se parche la visione è su un computer o uno smartphone è troppo piccolo grazie non la giocare quella palla non la giocare teniamo, 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 solo, solo, di là, di là, toglia, toglia, solo Matti, temporezza, pizzica, lo rigioco, bravo Angelo, bravo, mettiamoci bene, non ci abbassiamo, bravo te, bravo te, bravo te, bravo. Non stanno passando, non stanno passando. Non stanno passando. Non stanno passando, 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 non stanno passando. Calma, calma, metti a posto. Tieni, vabbè, vabbè, vabbè. Tieni, vabbè. Tieni, vabbè, vabbè. Tieni, vabbè, vabbè. Tieni, vabbè, vabbè. Tieni, vabbè. Tieni, vabbè, vabbè. Tieni, 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 vabbè. Vabbè. Tieni, vabbè. Tieni, vabbè. Tieni, vabbè. Tieni, vabbè. 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 Tieni, vabbè. Tieni, vabbè. Tieni, vabbè. 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 Tieni, 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 vabbè. Albe, te l'hai mai fatto? Marco, dove stai? Marco, perdite! Amico, è il gioco che va! Qua! 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 Devi marchare! Guarda! Guarda! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. respira, respira. Grazie a tutti. 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 . . .